E' suo, il fucile da caccia, ha chiesto il capo della squadra mobile di Agrigento, Attilio Brucato. E lui ha risposto, sì, è mio, è un fucile a pallettoni. Perché ha sparato contro sua figlia Rita? Ha chiesto ancora il poliziotto. E lui ha risposto, ma quale mia figlia? Io ho sparato contro i cani. Un alibi, una giustificazione che al momento non è creduta. Sì, perché la mobile ha accertato che i colpi a pallettoni sono stati sparati ad altezza uomo e non in basso per intimidire, impaurire. E così adesso un pensionato di Favara di 87 anni, Giuseppe G. Bilaro, è stato arrestato. E' anziano ed è detenuto ai domiciliari, a casa propria, in contrada Fontana degli Angeli, teatro del presunto tentato omicidio. Il padre contro la figlia, Rita G. Bilaro, 52 anni. Lei ieri sera è ritornata a casa, come sempre. E' entrata con l'automobile dentro il garage, ha parcheggiato, poi all'improvviso un botto, una esplosione, poi un bruciore alla spalla. Le grida il tormento. Come è stato? Chi è stato? Aiuto! Sono ferita! Lei, Rita, ha telefonato al fratello, che è un medico. Vieni subito, presto! Quando la donna è stata trasportata in ospedale, i medici del pronto soccorso le hanno estratto due schegge di pallettoni, sparati da un fucile da caccia. Vicino la casa dove abita Rita G. Bilaro vive anche il padre Giuseppe. Mio padre, ma non è possibile, si è chiesta a Rita, stupefatta, sbalordita. Poi il pensionato è stato interrogato. Vi ripeto, ho sparato contro i cani perché mi disturbano, ha raccontato Giuseppe G. Bilaro, anche se il colpo è stato mirato contro la porta del garage dove la figlia Rita ha posteggiato l'automobile. Gli investigatori hanno scoperto che ormai da anni l'uomo avrebbe contrasti con i figli. Adesso risponderà di tentato omicidio.